Inizieranno domenica le assemblee con la base che avranno il compito di riportare serenità in Forza Italia in vista delle prossime elezioni amministrative. In Puglia si vota in 47 comuni, tra cui anche i capoluoghi Brindisi e Barletta, e le diatribe interne al Partito degli Azzurri rischiano di avere ricadute pesanti sull'esito della tornata elettorale di giugno. Nel programma stilato dai vertici pugliesi di Forza Italia c'è da un lato la valorizzazione del risultato conseguito alle ultime elezioni politiche, considerato positivo nonostante la sconfitta nei collegi uninominali, e dall'altra il recupero del rapporto incrinato sì con almeno metà del gruppo consigliare regionale. Dopo la mancata elezione in Parlamento di molti rappresentanti di spicco di Forza Italia, si è infatti alzato tempestoso il vento delle critiche verso le scelte delle candidature operate dal segretario regionale Vitali. Di grande amarezza nei confronti del partito ha parlato il vicepresidente del Consiglio regionale Gian Diego Gatta, aggiungendo le sue rimostranze a quelle già esibite nei giorni scorsi dai colleghi Nino Marmo e Francesca Franzoso. Il consigliere Manfredognano era stato candidato nel collegio uninominale della Camera di Cerignola, risultando sconfitto dal neodeputato del Movimento 5 Stelle Antonio Tasso, nonostante le 40.000 preferenze sfiorate e un ragguardevole 34% dei voti complessivi raggiunto. Gatta lamenta di non aver ricevuto nessun paracaduto nei listini proporzionali, come invece è avvenuto ad esempio per l'altro candidato nel suo collegio, Michele Bordo, terzo con la metà dei voti dei suoi avversari, ma capolista per il Partito Democratico nel proporzionale e quindi eletto in Parlamento. Gatta sottolinea come sia stata grande la delusione nel vedere il posto di capolista di Forza Italia nel collegio Andrea Foggia, assegnato ad Anna Elsa Tartaglione, 28enne ex Miss Molise, catapultata in Puglia per ricevere senza il minimo sforzo il lasciapassare per il Parlamento. Stessa fortunata sorte è toccata in altro collegio all'ex grillina Vincenza Labriola. Gatta, al pari di altre personalità con un grande seguito elettorale come Rocco Palese, lamenta di essere stato mandato allo sbaraglio provocando grande amarezza tra i suoi sostenitori. Il consigliere Manfredoniano annuncia di volersi prendere una pausa di riflessione, in attesa che il suo partito prenda coscienza degli errori commessi e vi ponga finalmente rimedio. Non me lo so spiegare, in effetti ci sono dei territori...